Messina 1972. Il traghetto delle ferrovie dello Stato trasporta sorrisi di vacanzieri spensierati. La prodo alle vacanze è vicino. Il tempo di assaggiare un arancino prima di ripartire e raggiungere le più note e rinomate spiagge siciliane. Com'è bello arrivare in Sicilia. Sbarcando a Messina, la città, il porto, le montagne, il cielo, tutto, appare ancora più straordinario di come lo si è sognato durante il viaggio. E anche il primo contatto con le strade è un'esperienza felice. La vocazione di Messina è racchiusa nel suo porto. Continuo passaggio di genti e di merci. Una provincia, quella messinese, dove si dice che la mafia stranamente non abbia esteso i suoi tentatoli. Insomma, una provincia babba. Siamo negli anni 60-70. Messina assunse la denominazione di provincia babba, provincia fessa, quindi priva di scaltrezza tipicamente mafiosa. Si trattava di un territorio immune dalla presenza di Cosa Nostra. Il primo nucleo di organizzazione mafiosa viene riconosciuto processualmente nel 1983, quindi in ritardo rispetto a tutte le analisi che erano state fatte precedentemente in altri territori come Palermo e Catania. A partire dagli anni 70 ci sono dei rapporti consolidati molto forti proprio a partire da quella stagione. All'epoca vi erano solamente due clan, il clan Cariolo e il clan Costa. Il clan Costa è egemone, predominante. Il quartiere di Giosta rappresenta il punto di riferimento criminale della città di Messina. I due clan danno inizio a una guerra sanguinosa, da cui il clan Costa esce vittorioso con l'aiuto dei fratelli di Calabria. Costa era affiliato dal 72, perciò in età molto giovanile, all'andrangata calabrese. Ha importato il format calabrese, adattato alla realtà siciliana, un po' un restyling calabro. L'attività prevalente era il controllo del territorio attraverso le estorsioni e lo spaccio di sostanze superfacenti. C'era una collaborazione tra i clan, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di armi. Il primo vero rapporto che parla di organizzazioni criminali con una sua struttura, con una sua architrave, viene fatto dai carabinieri proprio a metà degli anni 70. E la parola mafia ancora non era adoperata in questo rapporto. Lì c'è proprio un allarme forte che i carabinieri lanciano. Dicono in sostanza, guardate che se non prestiamo attenzione a questo fenomeno, rischia di diventare endemico e di diventare molto preoccupante. Lo Stato purtroppo non presta attenzione a questo fenomeno, perché è concentrato in quel determinato momento storico su Palermo e su Catania. È vero che nella provincia di Messina non ci fossero eserciti mafiosi così ricchi e forti come in altre province. Allo stesso tempo era accompagnata da presenze di alto livello mafioso che avevano potuto direttamente accedere alle stanze dei Bottoni, nel potere legale. Messina continua a vivere come un'isola nell'isola. Lontano dai riflettori, i rapporti criminali si saldano invadendo ogni istituzione. Nell'Ateneo Universitario di Messina, grazie attraverso una serie di protezioni della borghessia mafiosa cittadina, si sono saldate relazioni tra organizzazioni criminali, pezzi di potere formale, istituzionale e politico, ma soprattutto organizzazioni dell'estrema destra. Nell'evoluzione del fenomeno mafioso, un fattore da considerare è senz'altro quello che ha rappresentato all'Università di Messina, soprattutto le versioni di destra degli anni 70. Perché si sono saldati dei soggetti che poi troviamo noi nelle cronache mafiose degli anni 80 e 90, anche con rappresentanti dell'Andrangheta Calabrese, proprio perché l'Università diventava questo luogo di interscambio tra esperienze criminali diverse. Negli anni 70 a presiedere l'opera universitaria viene chiamato Don Stilo, originario di Africa, in Calabria. L'opera gestisce la casa dello studente e le ingenti somme ad essa collegate. E' importante la casa dello studente. Era un deposito di armi perché già allora cominciava il traffico delle armi che finivano poi alla destra fascista. Venne fuori che tutta l'Università era praticamente in mano della Drangheta, della zona di Africa. L'esame per i dranghetisti calabresi si faceva aprendo la parte destra della giacca. La parte destra della giacca faceva vedere la fondina con la pistola così. Chiudeva, 30, può andare. E questa veniva ancora un po' poco. Giovani universitari di destra iniziano ad unire alla militanza politica attività che spesso oltrepassano il limite della legalità. I loro nomi marchieranno la storia di questa provincia e dell'Italia nei decenni futuri. Sono i vari Rosario Cattafi, Pietro Rampulla, Giuseppe Gullotti. Perché se è pur vero che questa città di fatto era stata occupata militarmente dalla Drangheta e che in una seconda fase inizia a interloquire con le grandi organizzazioni di Cosa Nostra della provincia di Catania e la provincia di Palermo proprio in quegli anni riesce a avere quel salto di qualità che gli permette poi di diventare un'asse di congiunzione non soltanto tra le aree militari e le organizzazioni criminali mafiose nazionali ma soprattutto con pezzi importanti della borghesia finanziaria di questo paese. Una mafia che se c'è sembra essere un'organizzazione al servizio di famiglie e interessi radicati altrove, a Catania o a Reggio. Molti boss, se catturati, si fingono matti per farsi trasferire, in una sorta di villeggiatura, all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto o nelle carceri aperte di Patti. Era uno dei luoghi di detenzione privilegiata dei mafiosi che potevano beneficiare di condizioni assolutamente impossibili in altri luoghi di detenzione e sono realtà processualmente accertata summit, veri e propri summit di mafia e anche di altre organizzazioni criminali in particolar modo di camorristi che si trovavano a Barcellona proprio per, da un lato, avere contatti con i detenuti e dall'altro, nel frattempo, ampliare il ventaglio dei loro affari illeciti. Tutti i patti, le dispute, gli annunci di morte vengono propagati dalle case circondariali della Repubblica. Nel carcere di Messina vengono ordinati gli omicidi vengono affiliate le persone. Da sottolineare che le celle stavano aperte era facile passare messaggi o a rovescio entrare qualcosa all'interno del carcere. vari pentili asseriscono di aver ricevuto all'interno del carcere la possibilità di utilizzare coltelli, alcolici, droghe anche pistole. All'inizio degli anni Ottanta a Palermo si spara. Si uccidono con fragore esponenti dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine. A Messina arriva il business. Parecchi anni fa sentì il pentito, allora molto famoso, Sino, soprannominato il ministro dei lavori pubblici della mafia. Dissi sono il sostituto procuratore generale di Messina, la devo sentire su questo processo. Lui si fermò un attimo e mi disse a Messina, Messina, l'università della mafia e Palermo, scuola elementare. Sono gruppi locali che iniziano la loro ascesa economica controllando il contrabbando, controllando il contrabbando di sigarette, spostandosi al mercato delle estorsioni, accumulando capitali, reinvestendolo sul mercato della droga, ma che progressivamente riesce a occupare e anche a governare il territorio urbanisticamente, a determinare scelte urbanistiche e lanciarsi nelle grandi opere pubbliche. La mafia è cresciuta in questo senso, ha accumulato enormi capitali attraverso collegamenti che, ripeto, non sono recenti. Nel 1985, il 12 dicembre, il meccanismo di rimozione si incrina. Una storia di spietata crudeltà all'ombra dei pilastri dell'autostrada sconvolge la quiete in cui è tenuta la provincia. Graziella era nata lì a Saponara il 3 luglio del 1968. Noi una famiglia numerosa e lei aveva deciso di interrompere gli studi per contribuire a un sostegno economico alla famiglia. Per questo si era trovato un lavoro in lavanderia. Ero nei carabinieri, prestavo servizio in Calabria. Io quando tornavo dalla Calabria portavo la divisa a lavare in quella lavanderia e lei ne era molto fiera, contenta, ne discuteva con le sue colleghe di lavoro. Poi un giorno venne come Giuseppe dai miei genitori e è arrivata a casa a fine lavoro e raccontò di aver trovato in una camicia, in un indumento, un documento. Un documento riferito a un ingegnere che frequentava Villa Franca e assiduamente frequentava la lavanderia, un certo ingegnere cannata. E riferì ai miei genitori che l'ingegnere non era quella persona ma era un'altra persona. E questo documento le venne strappato dalle mani dai responsabili della lavanderia. Uno dei ruoli che venivano svolti dalle organizzazioni criminali della provincia di Messina proprio sotto l'eggida della provincia Babba era quello di un territorio che potesse garantire latitanze dorate ai maggiori esponenti di Cosa Nostra dell'intera Sicilia. In provincia di Messina trascorsero la latitanza i soggetti di vertice sia della mafia palermitana sia della mafia catanese. Gerrando Alberti Junior e Giovanni Suterra da qualche anno trascorrevano la loro latitanza in modo molto poco ritirato in provincia di Messina facendo base a Villa Franca Tirrena avendo la copertura anche istituzionale garantita loro da un personaggio veramente da leggenda. Si chiamava Santos Fameni, era allo stesso tempo un importante uomo d'onore di Cosa Nostra ma allo stesso tempo anche un potentissimo massone con relazioni in ambienti istituzionali che pochi nella storia della mafia hanno potuto coltivare. Gerlando Alberti Junior è il nipote del boss messinese Gerlando Alberti, conosciuto come Upacaré, l'imperturbabile. Entrato in Cosa Nostra tramite lo zio ha ereditato luogotenenti e il controllo dei traffici internazionali. Upacaré aveva mantenuto i collegamenti tra la Sicilia e l'America. Lui li estende diventando così uno dei maggiori esponenti della nuova mafia. Gran parte dell'eruina che compare sui mercati clandestini è sotto il suo controllo. Un giro d'affari per molti miliardi che non può essere messo a rischio. Per questo la decisione di eliminare la ragazza. Non ebbe il tempo di poter riferire queste sue innocenti scoperte che neanche le destarono sospetto. Tanto era umile e ingenua la ragazza al fratello carabiniere che la venne sequestrata. Il giorno 14 mi telefona mio fratello e mi avvisa che Graziella non era rientrata a casa dal giorno 12. Era il 14 quando mi ha telefonato. Allora io mi sono preoccupato e sono scappato in Sicilia. All'attesa dell'uscita dell'autostrada di Rometta vi era mio fratello, mio padre e il proprietario della lavanderia. dove mi ha rassicurato che mia sorella si era fatta la fuitina. Però il titolare della lavanderia non mi convinceva perché nominava spesso quel ragazzo che era lui il responsabile, che nascondeva mia sorella. E allora mi fece accompagnare. Quando ho avuto una discussione con questo ragazzo ho capito che effettivamente non era lui. L'ho pure maltrattato, poverino. I carabinieri partono con le ricerche. Si ipotizza la solita fuitina. Pietro non è convinto. Da solo in moto cerca sua sorella tra i monti peloritani, non ancora battuti. In quel momento è arrivato un BMW con due coppie. Questo si è presentato come medico dicendo che nei pressi del Forte Campone avevano visto il corpo di una ragazza buttata per terra. E allora io insieme alla guardia forestale siamo andati al Forte Campone e abbiamo visto mia sorella. La vicenda di Graziella Campagna è quella che per certi versi descrive meglio la abiezione che l'organizzazione mafiosa toccò nella provincia di Messina. Immagino mia sorella con quei balordi sulla macchina stretta perché è stata tratta in inganno. Arrivato a un certo punto la macchina devia, salgono altre persone, la stringono in macchina, un percorso di quasi 15 chilometri. Che cosa pensava mia sorella? Aveva una fucilata nella mano al petto, alla spalla e alla testa. Erano cinque colpi quelli che gli hanno tirato. Quanto li ha supplicati e non hanno avuto scrupoli. Dopo il ritrovamento Pietro Campagna cerca di scoprire la verità tra continui depistaggi e ripetute convocazioni presso il comando dei carabinieri di Messina. Alla presenza peraltro di un soggetto che coordinò le indagini senza neanche essere un militare. Un soggetto appellato falsamente come colonnello e così accreditato agli occhi dell'appuntato Piero Campagna era in realtà un signore che non aveva neanche volto il servizio militare di leva e che però aveva la particolare caratteristica di essere amico di Gerardo Alberti Junior. Perché come può essere che un amico di Alberti Gerlando, che è il risultato che non ha nemmeno fatto il militare, come poteva essere che frequentava le caserme e veniva presentato in giro come un ufficiale dei carabinieri e che era nella stessa stanza con me, presentatomi come ufficiale, dove mi venivano fatte domande di mia sorella. E che se io sapevo qualcosa di mia sorella, io credo che non uscivo da quel reparto. La presenza del nipote di Upaccarella, ferocia del delitto, testimoniano l'importanza per le famiglie di Cosa Nostra del territorio messinese, dove è facile organizzare e mantenere le latitanze dei maggiori ricercati. Si può contare su una stretta rete di omertà e sulla connivenza di strani personaggi che frequentano caserme e partecipano senza alcun titolo alle indagini. Alla fine, grazie agli sforzi investigativi a titolo privato svolti da Piero Campagna, furono catturati Gernando Alberti Junior e Giovanni Sudera, se non che godettero delle coperture giudiziarie garantitegli dal boss Santo Sfameni, che fecero in una prima occasione annullare il processo davanti alla Corte di Assisi di Messina e il 28 marzo del 1990 gli fecero ottenere una sentenza di proscioglimento. Il processo di Graziella Campagna, ha dormito 12 anni, si riaprì Grazie a una trasmissione. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Che suscitò un modo di sdegno persino tra i mafiosi che l'avevano visto in carcere. E alcuni di essi vollero deporre e dire, ma guardate che l'omicidio di Graziella Campagna è stato fatto per questa e queste altre ragioni, ma questo e per quest'altro. I responsabili della fine di Graziella non hanno mai pagato per questo delitto. In realtà due noti mafiosi palermitani, Gernando Alberti Junior e Giovanni Sudera, sono stati sì rinviati a giudizio dopo il delitto, ma sia il pubblico ministero e sia il giudice istruttore, si sono dimenticati di notificare agli interessati la comunicazione del procedimento giudiziario, per cui quel processo è stato annullato per vizio di forma. Com'è possibile che i suoi colleghi si siano dimenticati di una cosa che in fondo è molto elementare? Queste cose possono capitare, nessuno di noi sente da difetti, quindi un errore del genere può capitare ed è prevista anche la possibilità appunto di rilevarlo e quindi di riaprire poi un altro procedimento. Tant'è vero che dopo l'annullamento a lei viene dato l'incarico di fare un'altra istruttoria a lei in qualità appunto di pubblico ministero e lei insieme a Mondello, che era invece giudice istruttore, dall'accusa di omicidio per Gernando Alberti e Giovanni Sudera passate invece ad un proscioglimento per entrambi gli imputati, è così? Sì, esattamente così. Durante la trasmissione televisiva chi l'ha visto ha fatto cenna a un verbale che riguardava l'anno 87, due anni dopo l'omicidio di Graziella, che un collaboratore di giustizia a Reggio Calabria aveva fatto il nome di Alberti Gernando come responsabile dell'omicidio di Graziella, ma questo verbale agli atti non esisteva. Ci siamo preoccupati di andare a guardare un processo che si sta celebrando appunto in questi giorni, nel quale viene in qualche modo indagato un magistrato noto del messinese e si parla, diversi collaboratori parlano, di incontri che sarebbero avvenuti in una masseria, nella quale appunto erano soliti incontrarsi da una parte alcuni magistrati messinesi e dall'altra mafiosi. Tra questi mafiosi c'è Gerlando Alberti, il quale ricordiamo in quel periodo era latitante. L'interesse era solo di coprire quelli che hanno coperto la latitanza, questi abitavano vicino alla caserma, se andava a cena in quel ristorante, se egli è stato presentato dal sindaco, se la patente è rimasta per un mese in caserma, che cosa c'era sotto? Il delitto fu determinato dalla necessità assoluta di tutelare la latitanza di importantissimi personaggi mafiosi. Complicità che ormai non possono più essere negate e la stagione del maxiprocesso di Palermo portano a celebrare anche a Messina il primo processo per crimini di mafia. Il 14 aprile del 1986, primo giorno di dibattimento, 78 avvocati vengono denunciati per abbandono di difesa. Tutti questi gruppi mafiosi non vogliono essere giudicati, rifiutano intellettualmente il fatto di essere giudicati e di essere sottoposti a processo. Questo procedimento si concluderà in maniera che la Procura definisce devastante per la città di Messina, perché riconoscerà il nucleo di associazione mafiosa soltanto a pochissimi imputati e assolverà molti per insufficienza di prove. La mafia messinese torna ad inabissarsi e con lei i tanti latitanti che si nascondono in provincia. Ne derivò l'insediamento a Barcellona anche di una presenza mafiosa autoctona. in un sodalizio mafioso che si ancorò intorno ad alcune figure centrali che hanno i nomi di Gerolamo Petretta, di Francesco Rugolo. Questi soggetti dominarono sia negli affari criminali, sia in società, sia perfino nelle loro ingerenze politiche. a cavallo tra gli anni 80 e 90. C'è l'irrompere sulla scena tirrenica di Pino Chiofalo, che vuole completamente scardinare tutto il vecchio clan dei barcellonesi e vuole inserirsi a pieno titolo nella percezione del pizzo, sia per quanto riguarda i lavori del raddoppio ferroviario, sia per quanto riguarda i lavori dell'autostrada. E quindi questo è un elemento di rottura che crea un'altra cruentissima guerra di mafia, sempre a cavallo tra gli anni 80 e 90. guerra che però nel 1991 trova termine con l'uccisione del figlio di Pino Chiofalo, il primo delitto che viene raccontato sul quotidiano La Sicilia dal nuovo corrispondente della Sicilia, da Baccia Dona Pozzo di Cotto, Beppe Alfano. Io ricordo che noi passammo davanti al luogo dell'omicidio, c'erano già le auto delle forze dell'ordine. Secondo mio padre era un omicidio eccellente ed era vero. Già mentre ero in macchina chiamò il redattore della Sicilia, del quotidiano La Sicilia, Gino Mauro, sollecitò un intervento da parte della stampa in tal senso e Mauro disse a mio padre facciamo una cosa, occupatene tu. Di quelle famiglie e dei boss che le governano, Beppe Alfano sa molto, conosce i capi ad uno ad uno da tempo. Beppe Alfano era nato nel 1945, arriva alla età della passione politica alla fine degli anni Sessanta. Beppe Alfano è un appassionato politico di estrema destra e inizia a frequentare l'Università di Messina nella seconda parte degli anni Sessanta. Diventa testimone privilegiato dei contatti che intervengono fra esponenti della buona borghesia barcellonese come Rosario Pio Cattafi, da esponenti di Cosa Nostra come Piero Rampulla. Era un insegnante di tecnica, aveva fatto un percorso molto travagliato per cui si era dovuto trasferire a Trento per insegnare, poi però il richiamo della Sicilia era stato più forte, era tornato nel suo paese, nella sua città e aveva ricominciato dalla radio. Con alcuni amici avevano messo su delle piccole radio locali, poi una televisione addirittura, una piccola televisione locale e quindi seguiva le sue inchieste ma nello stesso tempo continuava anche il suo lavoro di insegnante. Assumerà sostanzialmente il ruolo di censore degli inevitabili intrecci che fra il potere legale e la criminalità mafiosa anche a Barcellona si registrarono. Lui non aveva il tempo di scrivere un articolo che già ne aveva pronto un altro ed era lì a dettare al telefono tutto quello che aveva da dire e purtroppo nelle ultime settimane è stato anche un po' censurato. Alfano scrive della nuova era iniziata a Barcellona, delle nuove alleanze. Lo fa dopo aver provato a concorrere con una sua lista alle amministrative, ma il nome nuovo appoggiato sia dall'MSI sia dai padrini è l'avvocato Gullotti. L'uomo che divenne il capo dell'ala militare dell'organizzazione mafiosa barcellonese fu Giuseppe Gullotti. Assunse la guida della mafia barcellonese in assoluta sintonia con i desiderata della famiglia mafiosa catanese diretta da Nitto Santa Paola. Fu anzi personalmente Benedetto Santa Paola a affiliare Gullotti a Cosa Nostra. Insieme a Gullotti a guidare l'organizzazione mafiosa sarà un altro personaggio di rilievo ancora superiore a Gullotti, cioè Rosario Pio Cattafi. Mentre la mafia barcellonese si candida con i suoi uomini ombra a divenire un'interlocutrice nel grande giro degli affari nazionali, Beppe Alfano continua a tenere alta l'attenzione sui traffici nella Sicilia orientale, a riannodarne i fili prima da cittadino che da giornalista. Da allora ha cominciato a scrivere, a raccontare tutto, ma di tutto, dal piano regolatore di Barcellona, lo scandalo dell'USL 41 Nord di Messina, le famiglie mafiosa che si ammazzavano, lo scandalo dell'Aias sotto il silenzio dei riflettori nazionali. Quindi lui aveva notato che c'erano queste situazioni in cui convivevano varie realtà, come appunto l'Aias che doveva aiutare i bambini disabili e invece erano diventate delle grandi, dei carrozzoni all'interno dei quali entravano figli, parenti, nipoti, mentre i dipendenti non ricevevano in contemporanea gli stipendi, venivano lasciati a casa. È una mafia di tipo molto più elevato, colletti bianchi, potere politico, connessioni economiche e politiche, con il centro del potere istituzionale che sta a Roma. Messina è una delle città a più alta densità massonica di vita. Messina è soffocata sotto la cappa massone. Rispetto alle logge massoniche per lui era diventata veramente un'ossessione. Questa provincia, oltre alle logge massoniche formali, ufficiali, eccetera, è ricca di associazioni culturali, sociali, eccetera, che hanno avuto un ruolo paramassonico, cioè luoghi fisici dove è stato possibile tranquillamente, anche alla luce del sole, costruire relazioni politiche, relazioni economiche, relazioni sociali tra soggetti che incompatibilmente potevano stare insieme. Magistrati, avvocati, cioè imprenditori, gruppi economici e anche leader di organizzazioni criminali mafiose. È un altro tipo di mafia. Fra i massoni ovviamente c'è gente per il benissimo, ma si utilizza questa organizzazione per infiltrarsi e per connettersi. Tentacoli e uomini di questa mafia arrivano nel 1992 a partecipare come protagonisti al più grande attacco criminale compiuto nei confronti dello Stato e della legalità. La famiglia mafiosa barcellonese negli anni 90 ebbe un ruolo decisivo sia nella strategia stragista di Cosa Nostra, sia nella trattativa che Cosa Nostra nello stesso periodo fece con gli apparati deviati dello Stato. Proprio Giovanni Brusca deponendo nel processo Mare Nostrum ci ha detto che Cosa Nostra barcellonese fornì il detonatore che serviva per la strage di Capaci. Questo detonatore venne accompagnato come regalo da un cavallo san fratellano, regalato da Gullotti, a chi doveva poi eseguire la strage di Capaci. L'artificiere della strage di Capaci fu Pietro Rampulla, antico compagno d'armi di Rosario Pio Cattafi all'Università di Messina. Dopo quell'estate di sangue che vede come protagonisti i soliti vecchi compagni universitari, arrivano per Alfano le minacce. Le inchieste che ha portato avanti danno molto fastidio. Questa era un'inchiesta su cui Alfano ha lavorato molto fino all'ultimo e per la quale gli erano stati offerti da amici comuni, dei responsabili della struttura e suoi anche dei soldi per smettere di occuparsene, per smettere di parlarne. Quando lui a novembre del 92 torna a casa e mi riferisce di essere stato minacciato, a un certo punto gli ho detto, tu secondo me ti stai facendo troppi film, ti guardi troppi film. La minaccia si è concretizzata con una sorta di invito a salutare la sua famiglia perché tanto lui entro il 20 gennaio non ci sarebbe arrivato. Ed è sempre in quel periodo che a Barcellona trascorre la sua latitanza, resto che stanziale, Benedetto Santa Paola. Benedetto Santa Paola è da anni il padre padrone della mafia catanese. Siede al tavolo della cupola, ordina insieme ai corleonesi gli omicidi e le stragi più afferate, dall'omicidio Fava alle bombe di Capaci. Beppe Alfano ha la certezza della presenza in area barcellonese di Benedetto Santa Paola. Anziché fare lo scoop, cercò in tutti i modi di far ottenere allo Stato risultati e quindi di farlo catturare. La conseguenza fu che i primi destinatari delle sue confidenze furono il magistrato principe della procura della Repubblica, Olindo Canali, ma lei fece anche a esponenti dell'arma dei carabinieri. Qualche settimana prima della sua morte io entrai nel soggiorno di casa nostra e ho visto che lui era in piedi, stava guardando praticamente fuori dietro dei tre vetri e quando ho acceso la luce, lui mi era impreverato e ha detto spegni subito, spegni subito. Pare che avesse cominciato a osservare proprio dalla finestra di casa dei movimenti particolari, delle accensioni di luci all'interno di un appartamento di fronte e lui era convinto che in quell'appartamento si nascondesse Nitto Santa Paola. e ho detto che cosa pensi? Ci sono questi si riuniscono probabilmente in una loggia massonica, si riuniscono tutti i venerdì e si riuniscono dopo le 22. Ancora pochi giorni e l'8 gennaio tutto si compie. L'8 gennaio del 1993 Beppe Alfano stava tornando a casa dopo essere andata a prelevare alla stazione la moglie che tornava in treno dall'ospedale di Patti dove al tempo lavorava. Tornato a casa, avviata la moglie al portone, la sua attenzione fu presa da qualcosa. Quando io sono andata incontro a mia madre, mia madre mi ha detto guarda noi stavamo entrando a casa, papà si è girato, ha visto qualcuno, mi ha detto di entrare dentro, di chiuderci dentro, cosa che mio papà non aveva mai detto ed è immediatamente ripartito. Probabilmente ha visto le persone che si recavano alle riunioni che loro facevano ogni venerdì. In Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina è stato ucciso un giornalista, si chiamava Giuseppe Alfano, aveva 46 anni ed era il corrispondente locale del quotidiano La Sicilia di Catania. Fu trovato cadavere in via Marconi, aveva alla guida della sua auto accostato al marciapiede e abbassato il finestrino del lato passeggero per evidentemente colloquiare con persone che doveva evidentemente conoscere. Un'esecuzione strana, una calibro 22. E sappiamo che la calibro 22 è stata usata da cosa nostra per depistare, perché la calibro 22 viene considerata come una pistola da borsetta, quindi una pistola da donna, quindi delitto passionale. Santa Paola è lì sicuramente da dicembre del 92 e ci sta per certo fino al 6 aprile del 93. Perché? Perché c'è un'intercettazione appunto del Ross e questa intercettazione racconta, anzi sente, di un dialogo a tre tra un autotrasportatore barcellonese, il figlio e un certo zio Filippo. A un certo punto lo zio Filippo saluta e orifici padre, dice al figlio, se ti dico una cosa te la devi tenere per te, siediti. E il figlio dice, che cosa? Lo sai chi è lo zio Filippo? Fa lo zio Filippo. No, lo zio Filippo è nitto Santa Paola. Fatto è che le intercettazioni a inizio di maggio del 1993 furono sottratte al fascicolo e in contemporanea comparvero invece le dichiarazioni di un pentito, Maurizio Bonaceto. Sulle sue dichiarazioni fu individuato anche l'esecutore materiale del delitto nella persona di Antonino Merlino. è diciamo cronaca abbastanza recente che un nuovo pentito di notevole rango della mafia barcellonese, Carmelo D'Amico, ha indicato alla DDA di Messina quale killer di Alfano, altro mafioso. Santa Paola viene catturato solo a maggio e non a Barcellona, ma tra Siracusa e Catania. Il territorio messinese serve che rimanga vergine per ospitare altre latitanze e incontri da mantenere segreti. Proprio nell'estate del 1993, in cui a suon di bombe Cosa Nostra pretendeva la mitigazione del trattamento dei propri boss al 41bis, il capo dell'organizzazione mafiosa barcellonese era in grado di incontrarsi con il capo dell'ufficio detenuti del DAP. A causa del clamore, una commissione parlamentare si reca a Barcellona. Per la prima volta nero su bianco, si parla di mafia. Nel corso dell'audizione è risultato che nel territorio di Barcellona opera una criminalità mafiosa. Il fenomeno è ancora caratterizzato da una particolare impenetrabilità determinata da una pluriannale sottovalutazione del fenomeno, da un'altrettanto prolungata nel tempo impunità, dall'inadeguatezza della risposta istituzionale, dal rifiuto delle autorità politiche locali di prendere atto dello stato delle cose. La commissione violante certifica, con la sua venuta a Barcellona, in un certo senso l'esistenza della mafia. Anche lì il problema è sempre uno. C'è una reale consistenza delle organizzazioni mafiose, c'è la totale assenza di consapevolezza del fenomeno mafioso da parte della società civile. I potenti dunque riprendono il loro gioco di affari e crimine. Tutto viene pacificato. Per cinque anni nulla si pubblica a livello nazionale, fino all'omicidio di un barone universitario. Nel contesto di questo scenario, nel 1998 si colloca l'omicidio del professore Matteo Bottari. Un personaggio molto in vista che viene ucciso il 15 gennaio del 1998 e venne devastato da un colpo di fucile caricato con pallettoni per la caccia cinghiale mentre tornava a casa sulla panoramica. L'omicidio Bottari si è capito che era mafioso, anche per le modalità, ma non si è capito mai chi l'avesse disposto e chi l'avesse seguito. Fu fatto con modalità che erano di tipo un dranghetist e pare addirittura che fosse una macchina venuta dal Reggio Calabria. Attorno alla figura di Bottari, in quella fase, stanno maturando in città tutta una serie di interessi che vedono alcune famiglie voler rafforzare la loro presenza nel sistema della sanità privata e soprattutto accelerare il passaggio della privatizzazione della sanità. Dopo l'omicidio Bottari fu una sorta di goccia che fece traboccare il vaso. Calò la commissione antimafia che interrogò tutti i protagonisti della vicenda. Questa cosa scatenò veramente un po' di ferie, confermando ancora una volta la diagnosi del buon pentito Sino che diceva che era l'università della mafia messina. Era tutto sotto controllo. Sotto controllo anche perché i meccanismi rimangono inalterati. Riti che da decenni si ripetono invariati. Rito per Ritano è un adattamento della procedura a queste necessità. Si fa una soluzione in più, si utilizza di più un indizio favorevole invece di utilizzare cinque indizi sfavorevoli all'imputato. E così appare un normale processo. E' l'instaurarsi e il tramandarsi attraverso gli anni di un costume. Di un costume di spontanea reverenza e rispetto verso il potere, verso chi conta. Per cui a un certo punto si tranca e si sopisce qualunque processo. Nel 2008 il suicidio del professor Parmaliana, portato a processo per aver denunciato le collusioni politico-mafiose del territorio barcellonese e condannato per diffamazione, suona come una sentenza inappellabile sul futuro di questa provincia. Io parlo di quella coltre, di fumo imbarazzante per un paese, che troppo spesso noi identifichiamo soltanto con il terzo livello. No! Ci sono i politici, il terzo livello non è la politica. Il terzo livello, ma anche il quarto livello, è una convivenza imbarazzante tra politica, istituzioni, magistratura. C'è di tutto e lo sappiamo tutti. Ma c'è la paura a dirlo, c'è la paura ad avere anche la forza di voler bucare questo muro di gomma. Il 21 marzo 2016 Messina è stata scelta da Libera per celebrare la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia e un fiume di gente, tra cui tantissimi giovani, ha invaso la città. Messina, 1972. Il traghetto delle ferrovie dello Stato trasporta sorrisi di vacanzieri spensierati. L'approdo alle vacanze è vicino. Il tempo di assaggiare un arancino prima di ripartire e raggiungere le più note e rinomate spiagge siciliane. Com'è bello arrivare in Sicilia. Sbarcando a Messina, la città, il porto, le montagne, il cielo, tutto, appare ancora più straordinario di come lo si è sognato durante il viaggio. E anche il primo contatto con le strade è un'esperienza felice. La vocazione di Messina è racchiusa nel suo porto, continuo passaggio di genti e di merci. Una provincia, quella messinese, dove si dice che la mafia stranamente non abbia esteso i suoi tentatoli. Insomma, una provincia babba. Siamo negli anni 60-70. Messina assunse la denominazione di provincia babba, provincia fessa, quindi priva di scaltrezza tipicamente mafiosa. Si trattava di un territorio immune dalla presenza di cosa nostra. Il primo nucleo di organizzazione mafiosa viene riconosciuto processualmente nel 1983, quindi in ritardo rispetto a tutte le analisi che erano state fatte precedentemente in altri territori come Palermo e Catania. A partire dagli anni 70 ci sono dei rapporti consolidati molto forti proprio a partire da quella stagione. All'epoca vi erano solamente due clan, il clan Cariolo e il clan Costa. Il clan Costa è egemone, predominante. Il quartiere di Giosta rappresenta il punto di riferimento criminale della città di Messina. I due clan danno inizio a una guerra sanguinosa da cui il clan Costa esce vittorioso con l'aiuto dei fratelli di Calabria. Costa era affiliato dal 72, perciò in età molto giovanile, all'Andrangata calabrese. Ha importato il format calabrese, adattato alla realtà siciliana, un po' un restyling calabro. L'attività prevalente era il controllo del territorio attraverso le estorsioni e lo spaccio di sostanze superficienti. C'era una collaborazione tra i clan anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di armi. Il primo vero rapporto che parla di organizzazioni criminali con una sua struttura, con una sua architrave, viene fatto dai carabinieri proprio a metà degli anni 70. E la parola mafia ancora non era adoperata in questo rapporto. Lì c'è proprio un allarme forte che i carabinieri lanciano. Dicono in sostanza, guardate che se non prestiamo attenzione a questo fenomeno, rischia di diventare endemico e di diventare molto preoccupante. Lo Stato purtroppo non presta attenzione a questo fenomeno, perché è concentrato in quel determinato momento storico su Palermo e su Catania. È vero che nella provincia di Messina non ci fossero eserciti mafiosi così ricchi e forti come in altre province. Allo stesso tempo era accompagnata da presenze di alto livello mafioso che avevano potuto direttamente accedere alle stanze dei Bottoni nel potere legale. Messina continua a vivere come un'isola nell'isola. Lontano dai riflettori, i rapporti criminali si saldano invadendo ogni istituzione. Nell'Ateneo Universitario di Messina, grazie attraverso una serie di protezioni alla borghessia mafiosa cittadina, si sono saldate relazioni tra organizzazioni criminali, pezzi di potere formale, istituzionale e politico, ma soprattutto organizzazioni dell'estrema destra. Nell'evoluzione del fenomeno mafioso un fattore da considerare è senz'altro quello che ha rappresentato all'Università di Messina, soprattutto l'eversione di destra degli anni 70. Perché si sono saldati dei soggetti che poi troviamo noi nelle cronache mafiose degli anni 80 e 90, anche con rappresentanti dell'Andrangheta calabrese, proprio perché l'Università diventava questo luogo di interscambio tra esperienze. Nel 1985, il 12 dicembre, il meccanismo di rimozione si incrina. Una storia di spietata crudeltà all'ombra dei pilastri dell'autostrada sconvolge la quiete in cui è tenuta la provincia. Graziella era nata lì a Saponara il 3 luglio del 1968. Noi una famiglia numerosa e lei aveva deciso di interrompere gli studi per contribuire a un sostegno economico alla famiglia e per questo si era trovato un lavoro in lavanderia. Ero nei carabinieri, prestavo servizio in Calabria. Io quando tornavo dalla Calabria portavo la divisa a lavare in quella lavanderia e lei ne era molto fiera, contenta, ne discuteva con le sue colleghe di lavoro. Poi un giorno venne come Giuseppe dai miei genitori e è arrivato a casa a fine lavoro e raccontò di aver trovato in una camicia, in un indumento, un documento. Un documento riferito a un ingegnere che frequentava Villa Franca e assiduamente frequentava la lavanderia, un certo ingegnere cannata e riferì ai miei genitori che l'ingegnere non era quella persona ma era un'altra persona e questo documento le venne strappato dalle mani dai responsabili della lavanderia. Uno dei ruoli che venivano ascolti dalle organizzazioni criminali della provincia di Messina, proprio sotto l'eggida della provincia Babba, era quello di un territorio che potesse garantire latitanze dorate ai maggiori esponenti di Cosa Nostra dell'intera Sicilia. In provincia di Messina trascorsero la latitanza i soggetti di vertice sia della mafia palermitana sia della mafia catanese. Gerlando Alberti Junior e Giovanni Sutera da qualche anno trascorrevano la loro latitanza in modo molto poco ritirato in provincia di Messina di detenzione. Sono realtà processualmente accertata, veri e propri summit di mafia e anche di altre organizzazioni criminali, in particolar modo di camorristi che si trovavano a Barcellona proprio per, da un lato, avere contatti con i detenuti e dall'altro nel frattempo ampliare il ventaglio dei loro affari illeciti. Tutti i patti, le dispute, gli annunci di morte vengono preparati dalle case circondariali della Repubblica. Nel carcere di Messina vengono ordinati gli omicidi, vengono affiliate le persone. Da sottolineare che le celle stavano aperte, era facile passare messaggi o a rovescio entrare qualcosa all'interno del carcere. Vari pentiti asseriscono di aver ricevuto all'interno del carcere la possibilità di utilizzare coltelli, alcolici, droghe, anche pistole. All'inizio degli anni Ottanta a Palermo si spara. Si uccidono con fragure esponenti dello Stato, della magistratura e delle forze dell'ordine. A Messina arriva il business. Parecchi anni fa sentì il pentito, allora molto famoso, Sino, soprannominato il ministro dei lavori pubblici della mafia. Dissi, sono il sostituto procuratore generale di Messina, la devo sentire su questo processo. Lui si fermò un attimo e mi disse, ah Messina. Messina, l'università della mafia, è Palermo, scuola elementare. Sono gruppi locali che iniziano la loro ascesa economica controllando il contrabbando, controllando il contrabbando di sigarette, spostandosi al mercato delle estorsioni, accumulando capitali e reinvestendolo sul mercato della droga, ma che progressivamente riesce a occupare e anche a governare il territorio, urbanisticamente, a determinare scelte urbanistiche e lanciarsi nelle grandi opere pubbliche. La mafia è cresciuta in questo senso, ha accumulato enormi capitali attraverso collegamenti che, ripeto, non sono rete criminali diverse. Negli anni 70, a presiedere l'opera universitaria, viene chiamato Don Stilo, originario di Africo, in Calabria. L'opera gestisce la casa dello studente e le ingenti somme ad essa collegate. È importante la casa dello studente. Era un deposito di armi, perché già allora cominciava il traffico delle armi, che finivano poi alla destra fascista. Venne fuori che tutta l'università era praticamente in mano della drangheta della zona di Africo. L'esame per i dranghetisti calabresi si faceva aprendo la parte destra della giacca. La parte destra della giacca faceva vedere, la fondiva con la pistola così. Chiudeva, prende, puoi andare. E questa veniva ancora un po' più. Giovani universitari di destra iniziano ad unire alla militanza politica attività che spesso oltrepassano il limite della legalità. I loro nomi marchieranno la storia di questa provincia e dell'Italia nei decenni futuri. Sono i vari Rosario Cattafi, Pietro Rampulla, Giuseppe Gullotti. Perché se è pur vero che questa città di fatto era stata occupata militarmente dall'andrangheta e che in una seconda fase inizia a interloquire con le grandi organizzazioni di Cosa Nostra, la provincia di Catania e la provincia di Palermo, proprio in quegli anni riesce a avere quel salto di qualità che gli permette poi di diventare un'asse di congiunzione non soltanto tra le aree militari, le organizzazioni criminali, mafiose e nazionali, ma soprattutto con pezzi importanti della borghesia finanziaria eccetera di questo paese. Una mafia che, se c'è, sembra essere un'organizzazione al servizio di famiglie e interessi radicati altrove, a Catania o a Reggio. Molti boss, se catturati, si fingono matti per farsi trasferire, in una sorta di villeggiatura, all'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto o nelle carceri aperte di Patti. Era uno dei luoghi di detenzione privilegiata dei mafiosi che potevano beneficiare di condizioni assolutamente impossibili in altri luoghi.